bella ragazzi sono the pokemon collector e oggi finalmente come potrete vedere è arrivato il box di eclissi cosmica sigillato italiano e quindi cominciamo una serie di spacchettamenti prima di aprirlo guardiamolo un attimo ha sentito una voce strana perché mi sono ammallato luca comics a forza di prendere della pioggia e quindi ho preso il raffreddore quindi sono un po diciamo tappato e quindi sentirete una voce strana ogni tanto sentirete versi strani ma tutto normale allora avevo pensato di dividerlo in tre video quindi 12 pacche video speriamo di trovare qualcosa già il kit pre-release che avete visto sono andati da dio e quindi confido diciamo che siano ottimi anche questi qua andiamo a togliere il cellophane è il primo box che spacchetto per video perché con le gambe inossidabili non avevo ancora cominciato a fare a fare a fare video e quindi questo primo ci siamo quindi 12 pacchetti e li scegliamo facciamo tutti da stesso lato facciamo 36 3456 in conseguenza 123456 12 pacchetti c'è il box lo teniamo qua come sfondo poi pacchetti qua le bustine non si sa mai e che dire buona fortuna partiamo così si parte allora ricapitolando una marea di fuori serie più la nuova realtà che chiamiamo character rare ossia sono quelle carte al posto della quindi nello spot del reverse e che ci hanno il il pokemon accanto alleatore energia erica vibrava acchiappa poco come un potenziato koffing no spas snorout rockcraft dirling la reverse ducklet e la prima rara e raichu rara non secondo pacchetto abbiamo solgaleo e lunala allora cosa vorrei trovare diciamo che la carta che probabilmente mi piace di più del set è forse zekrom e resham mi piacciono davvero tanto come altro quindi spero il loro energia camilla e katlina lilip rotom oddish rafflet piplup bulpix rockcraft sileo e oh attenzione abbiamo subito trovare l'ultra rara ed è flygon gx hyper quindi subito al secondo pacchetto abbiamo trovato l'hyper che mi mancava il secondo pacchetto non male anche perché in altre box è capitato di non trovare l'hyper quindi ci sono tolti subito il dubbio mettiamola qua e procediamo con il terzo pacchetto abbiamo i tre baby energia caos gravitazionale tipo zero ciondolo del giro delle isle sfil sfil natu palpitod yangmo dirling allestimento del professor rock e attenzione una gx ed è megalopanni e gigly puff che già purtroppo ci avevo quindi andiamo a mettere una bustina diversa guardiamo peccato ci sono sprecati una gx con la carta che già avevo però vabbè scambierò terzo pacchetto quindi in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 in tre pacchetti abbiamo già trovato una hyper e una gx diciamo non male ma non vorrei sprecarmi tutto in questi video poi non avermi niente degli altri energia a modi sui vaporeon hapsol screlp pikachu stafol poniard litleo criceto lela reverse e infine dragalge rara nodolo ok continuiamo per quanto riguarda invece le character rare quella che mi piace di più probabilmente è quella di koffing non so se l'avete vista quella tutta viola ed è davvero bella spero di trovare quella lì energia adori glum amo di suire ponita sunker cosmog psyduck trepinch not trepinch pro reverse e infine cure nero olografico bella bella ok procediamo a vedere si vedete 1 2 3 4 e via energia probo pass torqual ambipom pikachu tè di ursa nospes litleo flabebe la reverse e larvesta quindi una non comune e infine mac di alola rara nonolo andiamo a passo spedito se no non riusciamo più 1 2 3 4 energia poche bambola di milia draconium zeta aracanid cosmog ponita crow brawler carvania cinchou la reverse e poniard quindi comune e infine stilix olografico 139 che ci avevo già proprio più bello bello sto artwork mi piace ok siamo direi abbiamo superato la metà si abbiamo superato la metà quindi 5 pacchetti rimanenti 1 2 3 4 energia hardier tangrof primplop dupider helioptil carvagna tepig tokenemaru la reverse e natu e infine graudon raro nonolo che mi mancava quindi quindi buono grado cattivissimo amo di godzilla quarto ultimo pacchetto dai almeno da character per aprire le danze 1 2 3 4 solitamente ho visto in altri spacchettamenti che le character sono abbastanza comuni quindi secondo me almeno 2 3 dovremmo trovare nella box però vediamo energia goldak pangoro eracross sentish di alola ponita sunker cosmog psyduck la reverse e drillbur comune e infine sunslash di alola che mi mancava è questo qua cioè diciamo che manca molte carte essendo appena cominciato il set vabbè terzo ultimo pack abbiamo energia malissia è fatta silvestro floet velia flabebe tangela duskul time pole pip lap la reverse e pallosen quindi rara reverse e infine un'altra gx ed è venusare snivey gx che è già la terza che trovo quindi altra gx sprecata con questo qua sprecato penultimo pacchetto del video abbiamo energia flareo iglibaf pino snorand rockraff nirling teddy ursa golet stilix e la reverse quindi rara reverse e infine fione che mi mancava di questa qua quindi mettiamola a parte ultimo pacchetto del video vediamo se riusciamo a concludere in bellezza 1 2 3 4 anche se sono già ma stato soddisfatto perchè comunque ho trovato l'hyper quindi ci sta energie mewile dusklops larvesta dangela ivy duskul time pole flabebe la reverse e podita comune e infine xatum che mi mancava in questa qua quindi tanta roba boh vediamo per questo video abbiamo finito guardiamoci un attimo cosa abbiamo trovato quindi nel secondo pacchetto abbiamo trovato subito l'hyper che è flygon gx quindi abbastanza buono dai venusare snivey alleati gx che purtroppo già c'avevo e idem megalopandi giglypuff gx che anche questa qua già c'avevo quindi saranno tutte per scambio vendita e basta dai i primi 12 pacchetti sono andati abbiamo altri 24 da aprire quindi vi aspetto tra due giorni per il prossimo episodio intanto vi ringrazio e lasciate un like se vi va come sempre iscrivetevi se ancora non siete iscritti al gruppo al canale vi ringrazio ancora ci vediamo nel prossimo video ciao ciao